Nel cuore dell'ultima settimana del 2023, una gioia tanto attesa ha finalmente fatto il suo ingresso nel mondo, Matilde, la primogenita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Nonostante l'attesa, i neogenitori hanno dovuto trattenere l'ansia per qualche giorno in più, fino a quando, alle 6 e 51 del 3 gennaio, il tanto desiderato momento è finalmente giunto. Prima di continuare con la notizia vi invitiamo a lasciare mi piace al video e iscrivervi al canale. Grazie di cuore del vostro supporto. La dolce notizia è stata condivisa con il mondo attraverso uno scatto tenero e commovente sui social. Federica, visibilmente stanca ma radiante, stringe Matilde al petto, mentre il suo orgogliosissimo marito, Matteo, realizza il primo selfie con le sue donne. Un momento di pura felicità, immortalato per tutti i fan che hanno risposto con un boom di Lique, cuoricini e commenti affettuosi. Matilde è stata accolta nel mondo con amore e affetto, come testimoniato dai numerosi auguri provenienti da volti noti come Lodovica Comello, Michela Girò, Gianmarco Tamberi, Emma Marrone e Luca Marina. Anche personalità come Giada Alessandra, Massimo e il team dell'ospedale Sacro Cuore hanno giocato un ruolo fondamentale nel supportare la coppia durante questo emozionante viaggio. Il marito di Federica, Matteo Giunta, ha condiviso il suo entusiasmo sui social con il primo scatto insieme alla piccola Matilde tra le braccia della neo mamma. Le parole di ringraziamento per gli angeli, che hanno accompagnato la loro famiglia durante questo viaggio toccante, hanno reso l'annuncio ancora più speciale. L'interesse e l'affetto da parte di amici e fan non si sono fatti attendere, e la conduttrice Lodovica Comello ha esclamato, finalmente sei arrivata Matilde. Benvenuta e benvenuti mamma e papà, che gioia! Un tripudio di emozioni che ha coinvolto anche personalità come Emma Marrone, Gianmarco Tamberi e Michela Girò, tutti presenti con affettuosi messaggi di congratulazioni. Non possiamo che augurare il meglio a questa bellissima famiglia e condividere la gioia di questo momento unico nella loro vita. Se anche tu vuoi essere aggiornato su altre notizie emozionanti, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere neanche un dettaglio di questa meravigliosa avventura. Grazie per la visione.